Gentili telespettatori, buona giornata, sondaggio Tecnedire sul sentimento degli italiani verso i politici. La Meloni ottiene il 44,3%, seguita da Antonio Tajani 33,8%, terzo posto Giuseppe Conte e quarto per Schlein e quinto Matteo Salvini. Conte ha il 31%, cresce dello 0,1%, mentre la Schlein si ferma al 29,2% e il segretario della Lega 28,9%. A seguire Maurizio Lupi 24,1%, Emma Bonino 23,9%, Carlo Calenda 20,5%, Bonelli Angelo 15,7%, Nicola Fratoianni 15,1% e come sempre Matteo Renzi chiude con il 14,7%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.